ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video oggi apriremo come avete visto le bustine di StumbleGuys con i personaggi queste bustine sono adatte a bambini superiori ai 3 anni e sono fatte da Dynamics come potete vedere oggi ne abbiamo trovate solo 4 e quindi abbiamo 2 ciascuno ok inizia Mattia apri apri ce la fai tira tira forte tira è uscita una bella mummia e poi dentro cos'altro c'è Mattia nella bustina apri un po' forse un altro personaggino non penso no c'è solo le istruzioni no sono le carte le nuove carte di StumbleGuys ecco queste e queste sono le nuove skin da aggiungere alla nostra collezione apriamo un'altra? si apriamo anche l'altra vediamo un po' cosa esce eeeh qui è nato un temporale nel frattempo la volpe la volpe pc sono belli grandi e poi vediamo anche io E poi le altre carte Tira tira Vediamo un po' Abbiamo il farone Sì Poi E perché siamo in tema Halloween Anche il fantasmino Che belli E quindi adesso Dorato Una skin speciale E un personaggio speciale Mettiamo E queste sono Le altre carte Delle skin La principessa Il supereroe E il re Andiamo con l'altra bustina Un'altra volpe Un'altra volpe Sono da pioni E sono fatte da Dira Mix E sono da pioni Quindi adesso Sono capitate Le stesse carte Ah ok Tre carte di doppione Quindi adesso Non dobbiamo fare altro che Aspettare che l'edicolante Ci porti altre bustine Da poterle collezionare tutte E voi che ne dite? Sì Siete contenti? Sì Quindi Se vi è piaciuto questo video Lasciate un like Attivate la campanella E soprattutto Iscrivetevi E condividete i video Con i vostri amici Ciao 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 Grazie a tutti